Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ben ritrovati ai nostri ascoltatori Altri due calciatori Viola nel mirino azzurro A riportarlo è Gazzetta.it Si tratta di Riccardo Sottil e di Gaetano Castrovilli I due giovani si sarebbero distinti per le ottime performance contro il Napoli Performance attraverso le quali avrebbero stregato il CT azzurro Roberto Mancini In direttura d'arrivo la trattativa Biraghi-Dalbert La formula concordata sembra quella del prestito secco a riportarlo a Sky Sport Non solo, con ogni probabilità le visite di D'Albert Presso la società Viola potrebbero iniziare già da domani Qui per Fiorentina1 Graziano Davoli Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Viola Tweet La voce del tifoso Viola